Brute notizie, sono stato costretto ad attivare la moderazione di tutti i commenti su questo mio canale YouTube. Infatti c'era un bastardo truffatore che tutti i giorni praticamente cercava di truffare chi commentava i miei post con dei profili fake. Cioè cosa faceva? Quasi ogni giorno creava un profilo fake con il mio nome, anzi il nome del mio canale e il mio logo. Io tutti i giorni lo segnalavo a YouTube come profilo fake e tutti i giorni YouTube interveniva per eliminarlo. Ma questo ne continuava a creare uno nuovo ogni giorno con il quale postava dei commenti sotto i miei video, in particolare in risposta ad altri utenti che commentavano. Quindi spacciandosi per me e cercando di truffare la gente promuovendo in particolare un contatto Whatsapp con degli improbabili consulenti o guru del trading. Ora io non so dirvi poi come funzionasse la truffa vera e propria. L'unica cosa che so è che tutti i giorni non solo dovevo andare a bloccare quel profilo fake e segnalare YouTube, ma soprattutto visto che il bastardo usava dei bot che pubblicavano in un sol colpo centinaia di commenti identici, io poi dovevo andare lì uno per uno ad eliminarli perché purtroppo non si possono eliminare tutti assieme. Quindi per me era un lavoro eccessivo. Ho sentito l'assistenza di YouTube che mi ha detto che l'unica cosa che potevo fare, oltre a ciò che facevo già, era approvare la moderazione di tutti i commenti. Quindi d'ora in poi io avrò un sacco di lavoro da fare perché dovrò approvare ogni singolo commento e voi purtroppo quando commenterete dovrete aspettare che io abbia il tempo di andare a vedere se è un commento legittimo e approvarlo. Cioè in altre parole il bastardo truffatore ha ottenuto solamente di danneggiare me e voi, anche perché comunque io credo che nessuno si sia fatto truffare perché io sono sempre intervenuto abbastanza in fretta e sono sempre riuscito a eliminare il grosso dei suoi commenti, purtroppo non tutti. Quindi se volete ringraziare qualcuno di questo disguido sappiate che dovete ringraziare questo anonimo truffatore che ha insistito per giorni fino a che non mi ha costretto a questa misura tra virgolette estrema. Poi per carità, magari se il bastardo si stufa, ora che non potrà più pubblicare nessun commento, allora magari un domani ripristinerò la situazione attuale con i commenti liberi. Quindi d'ora in poi se commenterete su questo mio canale e non vedrete il commento pubblicato probabilmente è solo perché io non ho ancora avuto il tempo di approvarlo. Mi dispiace, un saluto, ciao!